Manuel Dacol e Cecilia De Filippo hanno firmato l'edizione 2023 del Vertical Kilometer. L'evento podistico è andato in scena domenica scorsa a Domegge di Cadore per l'organizzazione della Proloco di Domegge in collaborazione con Gruppo Marciatori Calalzo, Associazione Domei e Events, CAI, Soccorso Alpino, Protezione Civile e Gruppo Alpini e con il supporto del Comune. Partenza alle 10 dal piazzale, antistante il bar Henry a Valle Sella e traguardo fissato a Monte Croda, una terrazza dalla quale si possono ammirare le Dolomiti a 360 gradi, le cime delle Marmarole a nord, gli spalti di Toro e il lago di Centro Cadore a sud, l'Antelao a ovest, 2,7 i chilometri di sviluppo del tracciato per un dislivello di mille metri, percorrendo asfalto, strada bianca, sentieri nel bosco e piccoli salti di rocce. Una gara che ha voluto ricordare Enrico Frescura e Alessandro Marengon scomparsi sull'Antelao nel 2018. Sono molto contento del tempo che ho fatto perché ho chiuso sotto i 34 minuti e che si avvicina al mio personale è fatto nel 2018 e è una gara che piace perché è la gara del mio caro amico Enrico e sono venuto qui con lui per la prima volta a vedere il percorso e poi è diventata la mia gara. Durissima ma lo sapevo perché l'ho fatta altre volte, poi sono un po' influenzata, mal di gola, raffreddore, insomma mali di stagione, sinceramente non pensavo di farla così ecco, però tanta fatica ma qua è sempre uno spettacolo. Siamo davvero contenti, una bellissima partecipazione sia per quanto riguarda il vertical sia per quanto riguarda il mini vertical, ha commentato Mirko D'Avià dei Marciatori Calalzo, coordinatore dell'organizzazione, si percepisce entusiasmo e questa è la soddisfazione più grande. Abbiamo avuto 30 bambini che hanno corso oggi su un percorso che per loro era davvero impegnativo e soprattutto c'è stato tanto entusiasmo e tanta commozione diciamo perché questa gara è un ricordo, un ricordo di due amici che sono scomparsi, Alessandro e Enrico, pertanto tutte le persone che ci tenevano, questi due nostri amici, vengono volentieri ad aiutarci.